Iniziamo in questa puntata con lo sviluppo di quello che avevamo iniziato nelle puntate scorse, ovvero le pillole della DS7 Crossback. Ismaele Iaconi ci presenta in questo caso la tecnologia dei motori. Il concentrato di tecnologia di DS7 Crossback lo ritroviamo anche nell'offerta e nella proposta dei propulsori. Partiamo dai propulsori termici benzina. Abbiamo l'opportunità di avere un motore THP 225 Stop & Start EAT8, un motore turbo benzina da 225 CV con cambio automatico a 8 rapporti, per poi avere lo stesso identico propulsore con una potenza minore, ovvero THP 180 Stop & Start abbinato sempre al cambio automatico EAT8. Il motore più piccolino è il PureTech da 130 Stop & Start con cambio manuale a 6 rapporti e successivamente nel corso del 2018 l'offerta si allargerà aggiungendo il cambio automatico EAT8, sempre al propulsore PureTech 130. Propulsore PureTech 130 importante perché è un successo industriale, in quanto è stato recentemente premiato come Engine of the Year da una giuria di esperti internazionali, premiato per la terza volta consecutiva come miglior motore per guidabilità. Motore di grande successo industriale, prodotto in più di 850.000 esemplari. L'offerta prosegue con i motori BlueHD, ovvero diesel, propulsori che al top di gamma con il BlueHD 180 Stop & Start e con cambio automatico EAT8 e il motore più piccolo per potenza che è un BlueHD 130 Stop & Start con cambio manuale a 6 rapporti. L'offerta si allargerà ancora nel 2019 con l'aggiunta di un propulsore super efficiente e all'avanguardia tecnologica derivanto a dell'esperienza di DS Automobile alla campionato FIA Formula E, ovvero un motore plug-in composto da un motore termico THP da 200 CV Stop & Start abbinato al cambio automatico EAT8 che lavora sulla motricità della sale anteriore e due motori full electric che lavorano sulla motricità della sale posteriore. La combinazione dei due propulsori e dal cambio automatico EAT8 consente alla DS7 Crossback di avere una motricità 4WD, quindi 4x4, un'eccellente innovazione per DS.